Il centro presenta con una pista BMX, con una nuova pista, una nuova offerta che sarà a disposizione sia di sportivi ciclisti di tutta la Svizzera, quindi gente che sa già andare con la BMX, ma è una pista anche adatta per chi vuole imparare questa nuova disciplina, non è troppo complicata, è una pista che si presenta su uno sviluppo di 230 metri e presenta 25 dossi da superare, naturalmente inizialmente restando ben collati al terreno con una velocità ragionevole e poi naturalmente per i più coraggiosi, quando la tecnica migliora, si potranno cominciare a fare i primi balzi. L'importante sarà un buon equipaggiamento, una buona conduzione da parte del monitore per evitare inutili incidenti. La pista è buona, per i ragazzi e per i ragazzi, non c'è nulla di più, c'è un buon pizzo per farlo, per farlo, è davvero buona. Per noi, i ragazzi, i ragazzi sono un po' piccoli, e i viraggi anche, quindi non è troppo il topo per noi, ma per i ragazzi, è davvero buona, è una buona cosa avere una pizzo di bmx in questo centro, a Tenerro.